La Repubblica Ceca ha convocato oggi a Strasburgo un vertice tra i ministri di trasporti di 11 paesi UE, tra cui l'Italia, contraria alla proposta di Bruxelles, sui nuovi standard Euro 7 per le emissioni di auto e furgoni. Per l'Italia ci sarà il vicepremier Matteo Salvini. Sul tavolo dell'euro è in particolare tre proposte legislative, il regolamento CO2 e veicoli leggeri, il regolamento CO2 e veicoli pesanti ed il regolamento Euro 7. Solo stop alle auto a diesel e benzina dal 2035 è già arrivata l'opposizione di Italia, Polonia, Bulgaria e Germania. Grazie a tutti.